se rivolete nel doppio episodio di giornata un intro come si deve sapete quello un intro da gabon sapete quello che dovete fare mi piace seguimi e attiva le notifiche per restare sempre aggiornato non ti perderai più nulla su questo canale youtube bentornati e ben ritrovati dipende tutto da voi detto questo preparatevi perché ci sono delle bombe di calciomercato che lasceranno a bocca aperta alcune situazioni che mi riguardano che mi stanno a far sudare a freddo onestamente parlando e poi dei rimbalzi e quello così e quell'altro colà adesso vi dico tutto quanto ho due canali di calcio questo non è l'unico è anche un canale extra calcio li trovate in descrizione come sempre compariranno qui durante il video bravissimi veramente ragazzi bravissimi indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello nell'episodio precedente l'avete indovinato tutti parlavo di un diciassettenne del palmeiras quando palmeiras quando palmeiras il celsi è interessato a sto diciassettenne operazione da 50 e passa milioni di sterline e estevao esteveao esteveao benissimo meravigliao che meraviglia esteveao meravigliao e ok ma adesso sto per lanciarvi un'altra bomba clamorosa di calciomercato parliamo di un calciatore importante per la nazionale italiana stavo per diruolo no però posso dire parliamo di un calciatore della juventus io vi dico solo che il bayern monaco è fortemente ma fortemente interessato al calciatore a tal punto che se parla di un'offerta imminente durante l'europeo a europeo in corso alla juventus sappiamo che la juventus vorrebbe provare a parlare col giocatore dopo l'europeo ho detto il calciatore di chi stiamo parlando scrivetelo qua sotto nei commenti lascio cuore a chi indovinerà la juve chiede almeno 40 milioni di euro da quello che ho capito io e il bayern ragazzi sembra disposto a spendere quella cifra ribaltoni di calciomercato clamorosi detto questo allora è riscatuto un'altra volta al contratto a pereira sapete la situazione nuovo allenatore dice che faceva assicurazioni poi è diventato allenato insomma l'udinese è in buone mani sto scherzando ragazzi però sono rimasto basito onestamente da un conto è che dici me pigli veramente uno che te può portare cioè vai a scommesso hai scommesso su cannavaro continua a scommettere su cannavaro no ok ma non c'è tra cazzo pereira pereira gli ha riscatuto il contratto il nuovo allenatore valuterà effettivamente se pereira è all'altezza del contesto e della situazione quindi va a finire che manco gli ripropongono il rinnovo dei contratti una cosa di quelle clamorosis per me pereira è un calciatore pienamente all'altezza dell'udinese non c'è stancazzo da valutare ma poi decideranno loro avete sentito d'un fris io fossi un tifoso dell'inter sarei incazzato ve lo dico onestamente perché innanzitutto a demo non so se sono state architettate sono state costruite cioè si è rigirata intorno alla dichiarazione perché io ho letto le parole ma da quello che ho letto ragazzi ribadisco fossi un tifoso dell'inter me incazzerei ha detto no perché io per l'inter sì ok rinnovo però mi piacerebbe la premier league però juve milan juve milan mai dire mai nella vita ma che cazzo stai a dire apprezzo la sincerità però onestamente parlando ragazzi sono tutti così è inutile che ci meravigliamo questi giocano a pallone dei colori che indossano delle magliette che indossano gliene frega un cazzo la prima offerta migliore che ricevono se ne vanno non gliene può frega di meno poi ve scandalizzate se è quadrato così no gliene frega un cazzo i cretini siamo noi che pensiamo no che debba esserci onore rispetto e per la maia no gliene frega un cazzo quindi entri a cominciamo a entrare in quest'ottica perché le bandiere della volta sono anni che lo sto ripetendo con ricambio generazionale non esistono più questi sono capaci un giorno sta da una parte il giorno sta dalla parte completamente opposta senza alcun problema esultando allo stesso identico modo capite ecco quindi comunque non rinnoverà secondo me ve l'ho già detto da mesi che lui sta con gli occhi da un'altra parte vuole andare a giocare altrove quindi l'inter dovrà dovrà sostituirlo ma avete sentito che Sottil è vicinissimo alla Salernitana vi posso dire che sarei meravigliato in senso positivo per la Salernitana perché credo che in serie B Sottil lavorando con tranquillità possa fare veramente bene guarda arrivano ultimi e vanno in serie C c'ho sta percezione ragazzi dovessero riuscire a prenderlo secondo me potrebbe essere qualcosa di importante per loro adesso parliamo anche di Zik Zik perché me lo avete chiesto in tantissimi e due paroline ovviamente anche su Douglas Costa su Douglas Lewis perché anche su lui mi avete chiesto più di qualcosa adesso ci arriviamo intanto il Cagliari si sta interessando fortemente Anzolà la Fiorentina se lo vuole le va dal cazzo per il semplice motivo che l'abbiamo visto tutti ragazzi io l'ho presa al fantacalcio non ho fatto tirare peggio bestemmie non immaginavo una stagione così de merda onestamente perché poi ti fa pensare ti fa capire che la stagione con Spezia è stato un caso cioè che la tua realtà non è l'overperform di quella stagione no tu sei un calciatore qualunque che fai una stagione bene e dieci male cioè veramente poi che con Ragneri sarebbe risorto in una maniera di quelle clamorose ma Ragneri si è ritirato da allenatore sappiamo tutti chi allenerà però il Cagliari la prossima stagione Nicola con Nicola chi lo sa con la tranquillità probabilmente in una piazza che pretende meno rispetto alla Fiorentina magari ritrova qualche gol in più una cosa certa che sicuramente sarà così perché non lo prenderò al fantacalcio quindi preparatevi che Enzola tornerà a fare 15 gol a stagione detto questo Omorodion Omorodion vabbè qua roba è un nome strano vabbè comunque avete capito il 2004 attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid che ha giocato all'Alaves e interesse di Roma e Napoli si è inserito il tu mi devi spiegare il Chelsea che cazzo ci deve fare anche con quella ce n'ha 800 800 tu mi devi spiegare che cazzo ci deve fare prima offerta di 30 milioni di sterline o di euro non me lo ricordo rifiutata dall'Atletico però ripeto ci sono Roma e Napoli io ho sentito pure il Milan in realtà qualche tempo fa non lo so se il Milan è concentrato su altri obiettivi ad oggi adesso ci arriviamo fatto sta che Roma e Napoli ragazzi si arriva al Chelsea col col soldino fresco non che il Napoli non ne abbia in realtà le possibilità di poterlo fare ma il Napoli è un'altra situazione guarda vedi la gran Akvara vedi la situazione Ozymen in questo esatto momento stanno a pensare risolve altre questioni e anche soprattutto la difesa quindi Rafa Marin Marin scusatemi è in chiusura comunque è una situazione praticamente fatta e definita da quello che ho capito chiusa questa situazione questa questione parliamo del Como perché ieri si era parlato anche di un forte interesse per Borca Maioral ex calciatore della Roma oltre che di Belotti e sembra che ragazzi siano ai dettagli per chiudere questa operazione di calciomercato quindi Belotti la prossima stagione potrebbe diventare l'attaccante titolare del Como e ve lo ribadisco ragazzi eh Roma è una piazza difficile è una piazza diversa in una piazza come Como secondo me Belotti tutta la stagione là davanti i titolari fisso e inamovibile secondo me può fare veramente bene e gli auguro il meglio a Belotti l'ho sempre detto l'ho sempre stimato e apprezzato come calciatore e noi ragazzi ci ritroviamo ad oggi in una situazione in cui non sappiamo neanche noi di che morte dobbiamo morire per il futuro per gli attaccanti per quello che si vorrebbe fa se vorrebbe manna via quello quell'altro Belotti se vorrebbe fa entrare qualcuna troppa incertezza al 19 barra oggi è 19 mercoledì 19 barra 20 giugno quindi ne riparleremo sicuramente comunque Belotti ragazzi sta là là per diventare un nuovo calciatore del Como Zirk Z si è inserito il Manchester United e non sto scherzando ragazzi lo United ha chiesto informazioni poi lasciate stack Zirk Zirk Z chiamatelo come volete vuole solo il Milan torniamo sempre sulla stessa fritta il problema non è quello che vuole il calciatore il problema ad oggi sono quelli che fanno i suoi interessi che chiedono 15 milioni di commissioni perché altrimenti questa trattativa sarebbe già stata chiusa e definita da un mese praticamente e gli agenti che chiedono le commissioni però adesso parleranno con lo United che sicuramente sarà disposto a dargli quelle commissioni ed è qui che la situazione per il Milan si complica cioè continuo a leggere anche su tutte le testate giornalistiche sportive più importanti il Milan che vuole solo lui non sta cercando nessun altro ad oggi per quanto poi ovviamente Sky Sport poi ti dice stanno cercando l'alternativa si sta parlando sempre dell'attaccante del Girona Dovvic non mi ricordo mai come si chiama perché tanto Umberto sempre lettere che però ha detto sono felice al Girona quindi se ne andrà sicuramente un ripiego un rincalzo comunque ci devi cominciare a pensare perché Zirk Z i giorni passano e questo lo United potrebbe avvicinarsi lui lo rifiuterà da quello che ho capito io lui rifiuterà la proposta dello United spingerà ancora una volta per andare a giocare al Milan ma ribadisco ragazzi cioè sono gli agenti e lui che deve parlare con gli agenti che fanno il loro interesse di avete rotto gli coglioni voglio andare al Milan non pretendete un cazzo o comunque pretendete una cifra più bassa ragazzi ci potrei fare un contenuto dedicato col buon Fabio perché secondo me sta diventando una situazione questa delle commissioni che sta sfuggendo veramente di mano sta sfuggendo veramente di mano ne riparleremo ad oggi col Milan ragazzi è un grosso punto interrogativo questo ve lo posso ve lo posso dire con certezza l'Atalanta visto che ieri non credo io abbia parlato di nulla di Atalanta oggi ve ne dico no due no sono troppe quella più calla me la tengo per magari il doppio episodio di giornata ma l'Atalanta sta cercando un mediano sta cercando qualcuno in grado di impostare e pure defa la legna hanno trovato in questo profilo il profilo di Guido Rodriguez si chiama Guido Rodriguez si si comunque si Guido Rodriguez quello di Real Betis il mediano trentenne che all'occorrenza fa pure la mezzala insomma un calciatore abbastanza abbastanza utile l'Atalanta sti colpi non sbaglia mai li conosciamo si è svincolato Sergio Ramos ecco ma rotta preparate ve l'ho detto per Hummels poi sembra che l'Inter non sia interessata con Sergio Ramos sia un pensierino ci può fare a Roma no non ci può fare un pensierino a Sergio Ramos perché chiede troppo di stipendio credo che noi non ce lo possiamo permettere di dargli uno stipendio poi dipenderà sempre ma per noi no al Sevilla comunque ha fatto una signora stagione ha fatto un'altra di 7-8 gol giusto perché cioè segna più dei attaccanti che che stanno là davanti tutta la stagione quello che fa lui il nuovo fan Sergio Ramos potrebbe diventare un'opportunità per tanti club non solo di Serie A in realtà ma in generale secondo me è un calciatore che ancora può dare quel qualcosa in più allora entriamo nei meriti delle trattative più importanti innanzitutto la Lazio sta chiudendo per Dele Bashiru Dele Bashiru il trequartista del non mi ricordo dove cazzo gioca come cazzo si chiama Atay Spor Atay Spor ok campionato turco operazione da circa 6 milioni di euro ovviamente ragazzi ci hanno bisogno di sostituire in quel reparto perché sappiamo tutti le grane Luis Alberto della situazione si sta a dire come cazzo si chiama quella camata della situazione quindi insomma devono inserire nel contesto no in quella batteria se così vogliamo dire no qualcosina per il futuro Sky Sport in realtà la dava quasi per chiusa per definita perfatta eh potremmo sicuramente essere vicini alla chiusura definitiva di questa trattativa vi dico la verità non l'ho seguito tanto sto calciatore quindi mi devo informare meglio ipoteticamente ed eventualmente qualora ehm lo prendessero mi informerò e poi ne parlerò in un contenuto dedicato in maniera approfondita eh mi mi informerò meglio su sulle caratteristiche sulle qualità del calciatore questa sua Roma ragazzi me me lascia a bocca a verde opportunità chiamiamola così opportunità di calciomercato per la Roma intanto lo depenno speriamo che non lo vediamo perché mamma mia ragazzi non è per mancare rispetto al calciatore perché poi cioè secondo me è anche un ottimo calciatore ma noi ci abbiamo bisogno di altro ad oggi non ci abbiamo bisogno di un calciatore che l'anno scorso ragazzi è retrocesso che ha fatto veramente il nulla cosmico e sto parlando di Vinamonti potrebbe essere un'opportunità perché il Sassuolo è retrocesso ma con carnevali allora ti incula ti sfila sempre qualche contropartita tecnica che poi gli andrai e richiede che ti pentirai d'avegli dato perché tanto è così ti chiederà un botto per un calciatore che ad oggi non vale quei soldi perché tanto con carnevali è così e ti ritroverai un calciatore ragazzi che secondo me l'asticella non te la alza basta con le operazioni di calciomercato sfogo tra virgolette tra parentesi basta con le operazioni di merda permettetemi di dirlo poi ne riparlerò eventualmente in un contenuto dedicato ci abbiamo bisogno di più certezze devi prendere qualcosa che ti può dare più garanzie basta scommettere perché se poi le stagioni falliscono di volta in volta e parlo dei piazzamenti in campionato è perché hai preso quello che si regge in piedi o sapevi dici vabbè c'è prova non si scoccerà e si scoccia quello su cui scommetti e dici vabbè dai le ultime stagioni non è che si andrà bene però è un buon attaccante segnerà c'è ancora qualche problema e non fa gol manco mi sono rotti i coglioni ecco ne parleremo in un contenuto dedicato Pina Monti non lo voglio non lo voglio piatevelo voi se lo volete bene e quindi lo prenderemo questa mi ha lasciato a bocca aperta perché il Napoli di Antonio sappiamo che il Napoli scusatemi sappiamo che Antonio Conte lavora all'interno del contesto deve avere qualche operaio del calcio mettiamola così qualche elemento un po' più rustico per così dire no ebbene profilo dalle caratteristiche di personalità se contraddistingue secondo me da sto punto di vista un calciatore del Lecce che se può prendere con 5 milioni di euro mediano all'occorrenza mezzala stiamo parlando di Ramadani Ramadani del Lecce espressamente richiesto tanto Antonio Conte e fa strano ragazzi dice sì serve un'alternativa sicuramente a da mediano allo vodka in realtà perché poi con Demme mi pare che le strade si sono si sono definitivamente separate e Conte ha chiesto proprio lui ragazzi miei quindi interessante questa ipotetica di eventuale operazione di calcio a mercato l'Inter è su un giovanissimo non ci arriviamo l'Inter sta cambiando da sto punto di vista comunque dovessi chiudere pure st'operazione ragazzi cioè Marotta piglia tante pezzacce ma in questa sessione di calcio a mercato già qualche giovinotto sta già a pensare alla programmazione futura però prima ieri abbiamo parlato di Emerson Palmieri al Milan ma solo qualora uscisse Teo Hernandez ho espresso tutti i miei dubbi del caso perché ho detto ah quindi se esce Teo il titolare diventa Palmieri però ragazzi Sky continua a riportare questo e oggi è uscita in realtà l'indiscrezione che circolava già qualche giorno fa qualche settimana fa true fair true fair true fair il terzino sinistro 2001 del Ren che sicuramente ha più senso Teo Palmieri è arrivato a sto punto perché dico se dovesse andare via Teo Hernandez pigli perlomeno un giovane di prospettiva gli affidi la fascia sinistra non sarà mai Teo Hernandez perché Teo Hernandez ne nasce a Milan o comunque nella situazione Milan in un contesto in cui riesci a trovare un calciatore uno ogni cent'anni se non è ogni cento è ogni cinquanta quindi però perlomeno è più sensata come operazione di calciomercato non è male come calciatore ma non è neanche una scureggia di Teo Hernandez secondo me ad oggi ok bene adesso arriviamo anche alla Juventus l'Inter sta puntando Giovanni Leoni è un classe 2006 ha 18 anni della Sandoia con Pirlo ha fatto veramente benissimo è un'operazione di calciomercato ad oggi non poi così costosa però si è messo veramente tanto tanto in mostra e io credo che l'obiettivo dell'Inter per il futuro sia cominciare a pensare ai ricambi generazionali della difesa vedi De Vrij vedi Acerbi tra una pubaggia un problema in altro acciacchi fisici le tacche avanza devono cominciare a mettere dei tasselli in teoria per il futuro quindi non da subito lo prendo e De Vrij piglialo lo mando via e lui no però piano piano dovranno cominciare ad inserire nel contesto fallista nel giro e piano piano De Vrij dice oh io oggi ancora un po' col bastone ce vado l'anno prossimo no levo il bastone me ne vado col girello è ora che giochi te capito per far crescere prospetti di questo tipo sto ragazzetto è molto molto interessante ragazzi poi sicuramente ne avrete sentito parlare perché siete più informati di me poi se seguite tanto la serie B io non l'ho seguita tantissimissimo però ne avevo sentito parlare è un giocatore che può fare il salto di qualità è un giocatore che può dimostrare di meritare l'Inter e la Juventus ti piomba a cazzo di cammello permettetemi di dirlo su Adeyemi sarà parlato del Zirkze sembra che Zirkze sia interessato solo al Milan poi se stanzerì lo United insomma non è una situazione facile seppur Tiago Motta lo vorrebbe e non capisco perché con Tiago Motta così Zirkze non pensi no anche ad un'ipotetica situazione a Juventus Adeyemi ne è che devo regalare Borussia diciamo non gli sordi però possono sempre giocarsi la carta di contropartite tecniche che piacciono tanto al Borussia Oysen che piace a mezza Europa e non solo pure in Italia e lo stesso Sule che piace veramente a mezza Europa a tutta Europa quindi Juventus che sembra disposta a rinunciare a uno di questi due profili o addirittura ad entrambi per altre operazioni per Adeyemi il 22enne ribadisco del Borussia Dortmund che a me piace onestamente parlando è un attaccante moderno interessante se potrebbe fare un contenuto dedicato però insomma vediamo se poi effettivamente la Juventus chiuderà questa operazione di calciomercato ce ne sono tante altre in ballo Juventus particolarmente attiva ragazzi già con colpi fatti ma anche in prospettiva con quelli che vorrebbe fare cioè sta discutendo per tanti calciatori non solo attaccanti e poi rapidamente visto che me l'avete chiesta la situazione Douglas Lewis è vero che McKennie sta tergiversando e ragazzi potrebbe far saltare anche in maniera clamorosa la trattativa perché poi lo stesso Sky Sport aveva detto lo stesso Fabrizio Romano ragazzi aveva detto tutto fatto definito non ha dato l'ir we go però ha detto è un'operazione che si farà a punta e basta e invece e invece qualche problemino sta sorgendo però da quello che so da quello anche che riporta lo stesso Sky Sport non sono degli ostacoli così insormontabili c'è comunque fiducia ce vuole tempo ma c'è fiducia per chiudere questa operazione Tiago Motta ha chiesto lui vuole Douglas Lewis e comunque ragazzi la Stompirla è interessata fortemente sia McKennie sia Eiling e devono anche loro sbrigarsi a cedere per situazioni di bilancio quindi gioco forza oggi è 19 ragazzi se vogliono guagliar qualcosa è interesse di entrambe le parti farlo dice se McKennie si mette d'accordo secondo me in un modo o nell'altro massimo 2-3 entro questa settimana secondo me sta grana si risolverà o in positivo o in negativo 80% positivo 90% 80% positivo 20% negativo anzi vi dico 85-15 in realtà vi ringrazio per la visione di questo contenuto grazie a tutti Grazie.